Buongiorno a tutti alla bottega della solidarietà che teniamo tutti gli anni qui davanti alla basilica in De Roma 46. Gli orari sono quelli consueti, tutti i pomeriggi dalle 15.30 alle 19.30 dal lunedì al venerdì, il sabato alla domenica dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Vi aspettiamo tutti, è la bottega, quella dove ci sono tutti i regalini e tutte le cosette del Togo, dove c'è la missione cuore grande di Maria Stella e vi aspettiamo numerose. Alla, 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 non è così qui, non è così, perché con questo è tutto, è tutto, è tutto, è tutto, è tutto.